Ciao a tutti, io sono Mirko e oggi vediamo come aggiornare il firmware della ricevente FRSKY XM+. Aggiornare il firmware è importante perché le nuove versioni garantiscono nuove funzionalità, prestazioni migliori e risolvono eventuali bug delle versioni precedenti. Inoltre se avete bisogno di passare da un firmware EU a uno non EU o viceversa, questo è il tutorial che fa per voi. Per iniziare colleghiamo un cavo servo all'XM+, con la ricevente rivolta in questo modo saldiamo il cavo segnale in alto, il positivo al centro, e la terra in basso. Ci servirà anche una microSD ed un cavo mini USB per copiare sulla Taranis il firmware del ricevitore che andiamo subito a scaricare. Apriamo il sito frsky-rc.com e nella barra di ricerca digitiamo XM+. Scorriamo verso il basso e clicchiamo XM+. Poi andiamo su firmware e scarichiamo l'ultima versione disponibile. Estraiamo la cartella e cancelliamo l'archivio zip perchè non ci serve più. Prima di installare il firmware dobbiamo sapere se la versione della nostra Taranis è europea o internazionale. Basterà premere il tasto menu, andare a pagina 2 e scendere verso il basso. Arrivati ad internal RF clicchiamo su MODE e vediamo cosa possiamo scegliere. Se abbiamo D16, D8 e LR12 significa che la versione della Taranis è internazionale. Se invece in MODE compare solo D16 o D16 e LR12 e non abbiamo D8 significa che la versione della Taranis è europea. Possiamo spegnere. Ora accendiamo la Taranis in BOOT MODE premendo questi due trim verso l'interno. Poi la colleghiamo al PC col cavo USB. Apriamo l'unità relativa alla microSD della Taranis e come vedete al suo interno ci sono già delle cartelle con dei file. Questo perchè ho installato il pack delle voci. Se volete sapere la procedura per aggiungere le voci alla Taranis potete cliccare il link in alto a destra. Andiamo sulla cartella del firmware che abbiamo scaricato prima e come vedete al suo interno ci sono sei file. I primi tre con la sigla FCC sono per le versioni internazionali della Taranis. Gli altri tre con la sigla LBT sono per la versione europea. La scelta quindi ricade su tre file. Il primo ci mette a disposizione tutti e 16 canali. Il secondo ed il terzo ci mettono a disposizione 15 canali più il segnale RSSI facendolo passare rispettivamente nel canale 8 o nel canale 16. La mia radio è internazionale e voglio che il ricevitore abbia il segnale RSSI sul canale 16, quindi copio questo file nella cartella Firmware. Ora scolleghiamo il cavo USB e spegniamo la Taranis. Colleghiamo il cavo servo nella Smart Port della Taranis ricordandoci di mettere la terra a sinistra, il positivo al centro, il cavo segnale a destra, poi accendiamo. Come vedete all'avvio ho una schermata personalizzata, se la volete cambiare seguite il mio tutorial cliccando il link in alto a destra. Premiamo a lungo il tasto menu e andiamo a pagina 2, quindi ci posizioniamo su Firmware e premiamo ENTER. Qui c'è il firmware che ho copiato prima, lo seleziono e premo ENTER fino a quando non compare questa schermata. Lasciamo selezionato Flash External Device e premiamo ENTER. Come vedete parte il processo di aggiornamento che durerà all'incirca un minuto. Una volta completato l'aggiornamento spegniamo la Taranis e scolleghiamo il ricevitore. A questo punto l'aggiornamento è completato, se dovete bindare la ricevente alla radio potete seguire la mia guida cliccando il link in alto a destra. Questo era il mio tutorial su come aggiornare il firmware dell'XM+, grazie per aver visto il video non dimenticate di iscrivervi al canale e di mettere mi piace. Se volete potete supportarmi anche su Patreon cliccando il link a fine video.